Una luce laser è indirizzata verso l'occhio di un sensore di una camera CCD collegata attraverso un cavo a scarte al televisore. Al cammino della luce è possibile interporre, attraverso lo scorrimento di questo pannello, alcuni ostacoli. In questo caso un sottile forellino, un altro ancora più piccolo, un sottile filo di rame, un altro ancora e questa è la punta di un ago. Nello schermo si osservano le frange di diffrazione della luce. Nello schermo si osservano le frange. Nello schermo si osservano le frange.